30 piante messe a dimora presso la scuola primaria Rodari del quartiere Ponte alle Forche di San Giovanni Valdarno. È il bosco didattico realizzato da Unicop Firenze nell'ambito del progetto che ogni anno crea in vari istituti comprensivi un fazzoletto verde a disposizione dei bambini. Un progetto bello perché insegna ai bambini l'amore per la natura, l'amore per l'ambiente e l'importanza, soprattutto in questa fase storica così delicata, proprio dei temi ambientali, l'importanza della cura delle piante che sono un bene comune anche loro e soprattutto dell'utilità e dell'importanza fondamentale della natura per la nostra vita quotidiana. Un laboratorio di biodiversità che sarà curato nel tempo dagli studenti e che ha come obiettivo quello di far conoscere e sensibilizzare. L'obiettivo è quello di rendere i bambini sempre più consapevoli della cura e del rispetto del proprio ambiente e quindi anche di fargli sperimentare in prima persona un laboratorio all'aria aperta di biodiversità.